black stage buonasera intanto siamo con toni di fresco e stiamo preparando questa piccola opera il film si chiamerà questura va bene in questa opera ci sarà toni di fresco giovanni mineo giochino sinagra gianfranco damiano rosaria maniscalco andrea vellino che salutiamo ciao ragazzi e toni nike che sarebbe mio fratello raimondo mancuso e tanti altri personaggi che poi diciamo man mano che facciamo le riprese va bene ciao ragazzi toni puoi salutare i nostri amici ciao ragazzi ciao presto al cinema quest'ora in arrivo